Sì, e che volete qua? Che le scende, madre, si batte i miei, e se non vede, ce so, e gli ha dimanato, gli ha dimanato, perché l'oggetto, io vorratemi, e non si è aggiustato, non si è aggiustato un po', che le scende, batte i miei, se non vede, ce so, se non sono dato, eh, e che se non capoi, eh, arrivederci, una cosa, arrivederci. Mamma mia rugava, e come stava, ah, non aveva ragione, pure io non aspettavo il primo video, siamo un po' agitati.